in piedi eh qualcuno può confermare Fargetto vuoi venire un attimo qua a confermare che sono caduto in piedi per favore portate a cadere sempre in piedi un attimo Mario come sono caduto? avevamo calcolato giusto sei caduto in piedi grazie anche sulla X che ti ho fatto grazie torna pure nella tua postazione DJ Fargetta qui è il DJ Alberto che vi sta parlando sono caduto in piedi un esperimento fantastico lo rifaremo sì lo rifaremo abbiamo sentito ecco basta adesso al numero 20 Moby al numero 19 General Bass con I See You al 18 Sunny Whom Demolition Basic nuova entrata 17 Come Together Bar Fit Come In Roxy Gum Gum al 16 al 15 nuova entrata Molella XS XS al 14 al 14 Brent Scooter al 13 Corona Baby Baby al 12 Moai di Mato Grosso e al 11 Moving On Da Bliss è fantastico Piazz la DJ Parade va avanti siamo solamente a metà ci sono altre 10 posizioni and this is Bobby Brown ooooh two can play that game stay with me but if you want to leave take your thing forget all about me tell me why you fail to realize that you might not ever get another try girl think about if you want to leave probably got a brand new way if you wanna do your own thing I hear what you're saying so you can play that game you're playing you can play that game 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501